C'è ragazzi, voi lo sapete, io ho costruito questo braccio robotico che ha avuto un sacco di successo tra l'altro ora è praticamente un anno che è andato a finire sulla rivista The Wild e molti mi avete chiesto ma come l'hai fatto a modellare su Fusion 360? Adesso ve lo spiego in un attimo Allora, come vedete questo è il progetto di Fusion 360 del mio braccio robotico, no? Vedete, c'è anche scritto MM tra l'altro sono i miei iniziali, perché non lo sapessi io mi chiamo Maurizio Questo progetto di Fusion 360 lo trovate sulla mia pagina Instructables Nei link in descrizione, con gli articoli in inglese, in italiano, comunque dappertutto Se voi scrivete il mio progetto su Google lo trovate, sia progetti sia codice, tutto quanto Allora, il vero segreto per costruire qualcosa su Fusion 360, un progetto, è partire dalle cose che voi non potete progettare Perché semplicemente siete voi che vi dovete adattare a quelle robe là Ecco, in questo caso le cose che non possiamo progettare in questo progetto, come vedete, sono quelle che non sono in giallo Perché tutta la roba in giallo è quello che voi andate a finire sul braccio robotico Infatti, vedete, questa è la foto del braccio robotico, il braccio robotico è giallo Perché sono le cose che ho stampato in 3D, va bene? Bene, quindi l'unica cosa da cui possiamo partire sono, per esempio, i motori Ecco, se vi serve il progetto di un servomotore, tipo questo, che sarebbe l'MG996R Che è il servomotore con il quale io, praticamente, ho costruito il mio braccio robotico Non dovete far altro che andare su Google Cercare MG996R 3D Model Fusion 360 E ho scritto 460, ma non credo sia un problema Io premo, per esempio, sul primo link e vediamo che cosa ci dà Ecco qua, come vedete ci dà il motore Un modello 3D del motore Faccio Download Models E una volta che l'ho scaricato, non devo fare altro che andare su Fusion Praticamente apri Apro dal mio computer il progetto E mi apparirà questo Una volta che ho fatto questo, io posso semplicemente prendere il componente così, no? E fare copia con CTRL-C E poi andarla a importare in qualsiasi altro progetto Ecco, come vedete, in questo caso il motore è messo in questo contesto, no? E' inserito qua dentro e per chi si fosse perso come funziona tutto questo Guardate, a me serviva che praticamente dovessero passare dei dadi, dei bulloni qua dentro Perché non potevo assolutamente usare i fori, no? Del servomotore da qua Perché se no poi mi sarebbe uscito la testa del bullone da qua E questo braccio, del braccio robotico non sarebbe mai riuscito a girare Perché avrebbe intaccato su quell'è là Quindi mi serviva fissare il servomotore di qua, no? Seguendo questa linea qua Per fare questo ho sviluppato questi adattatori qua Vedete, io posso prendere il corpo e spostarlo Guardate Ho creato questi piccoli adattatori qua Che praticamente fanno sì che io possa abitare il servomotore a questi piccoli pezzezzini di plastica Che poi sono andato a stampare in 3D E con un bullone far passare da qua il bullone dentro questo pezzo di alluminio Farlo passare da qua e stringerlo dentro Vedete? Come vedete adesso il motore si regge, no? Si regge tranquillamente Ecco, per fare questo adesso lo proviamo a fare Quindi io prendo, vedete, seleziono il motore Mi dice che sta in questo componente Mi seleziona questo componente di nuovo Io faccio copia Una volta che faccio copia vado su file, nuovo progetto E faccio incolla nuovo Va bene? Una volta che faccio incolla nuovo Dezooma un po', lo vado a trovare e faccio ok Come vedete adesso mi ha incollato il servomotore come mi serve a me Il modello 3D con le dimensioni esatte Tra l'altro controllate sempre che le dimensioni siano giuste quando fate queste cose Perfetto Un'altra cosa che io non posso andare a costruire Sono questi profili di alluminio Ragazzi, per forza Perché come vedete insomma Li ho comprati anche dalle foto, no? Come vedete E quindi per forza di cose Non li posso andare a costruire io, ovviamente E quindi che cosa devo fare? Devo andare a costruire effettivamente questo profilo di alluminio Per adattarmi alle esigenze del motore Quindi che cosa faccio? Per ora oscuro con l'occhio qua il motore E faccio un nuovo schizzo Nuovo schizzo Mi chiede su che piano farlo Io seleziono questo piano qua Quindi faccio semplicemente un click E mi metto in questa visuale Se non capite che cosa sta succedendo Vi conviene attivare qua la griglia Griglia di layout Come vedete vi fa vedere insomma il piano su cui state lavorando Che è più semplice Per tornare alla visuale che vi serve basta che premete alto Io so che questo profilo di alluminio è 15x15 Quindi prendo lo strumento quadrato Mi posiziono al centro E scrivo 15 sulla tastiera e premo tab E poi 15 di nuovo sulla tastiera e premo tab Ok So anche che lo spessore è di un millimetro e mezzo Quindi vado con la funzione offset Premendo O sulla tastiera A premere finché non diventa blu il quadrato E scrivo meno 1,5 Meno 1,5 dico meno perché deve andare all'interno lo spessore Perfetto Adesso non faccio altro che prendere questo contorno esterno Come vedete si illumina se lo premo Premo E di estrudi Poi con shift più il click sulla rotellina del mouse Cambio visuale e lo estrudo Lo estrudo adesso di quanto mi pare Poi lo taglierò successivamente Ecco Lo estrudo diciamo di 150 mm Come vedete adesso si attiva anche il motore di prima Che sta invece posizionato qua Disattivo un attimo la griglia per vedere meglio Ho tutti e due gli elementi che semplicemente devo comprare Non posso modellare voglio dire Ecco ragazzi Tra l'altro mi sono accorto che questo qua non è 15 ma è 25 Quindi che faccio Semplicemente vado qua nella cronologia Premo il tasto destro Faccio modifica schizzo Mi riporta nella visuale Mi sposto intanto con il click sulla rotellina del mouse Qua invece di dire che sono i 15 Premo due volte e scrivo 25 Poi premo qua e faccio 25 di nuovo E poi faccio termina schizzo Come vedete mi ha solo modificato le dimensioni Non mi ha rotto tutto il disegno Per così dire Ecco Ora bisogna fare una cosa importante ragazzi Ovvero posizionare praticamente questo motore Qua Qua dentro Questo come lo faccio Semplicemente prendo il componente Selezionandola qua E faccio tasto destro E faccio sposta Ora come modalità di spostamento Seleziono tipo di spostamento E faccio da punto a punto In modo tale che io possa individuare qua dentro un punto Vedete Mi individuo diversi punti di interesse E individuo qua il centro Va bene? Quindi seleziono questa faccia più esterna Tengo premuto control E seleziono questo primo punto Poi gli dico che questo punto Deve essere spostato praticamente al centro Di questo oggetto Come vedete se io premo questa faccia E premo questo punto Mi avvicino Già mi crea questa linea di traiettoria E faccio ok Come vedete il motore si è spostato con la sua faccia Che tocca quest'altra faccia E faccio ok Ora che mi rimane da fare Come vedete però I due corpi sono praticamente uno dentro l'altro Non va bene questa cosa Tra l'altro io lo posso spostare premendolo E poi con control z lo riporto a posto Non va bene questa cosa Perché io voglio che ci sia un buco qua dentro Per fare un buco qua dentro Io non faccio altro che praticamente premere su questa faccia Ma intanto premo un attimo A Che sta per Appearance E vi coloro di giallo il profilo di alluminio Giusto per farvi capire meglio Però dicevamo Premo su questa faccia Faccio tasto destro E faccio Crea schizzo E gli dico Acquisisce la posizione Perché abbiamo effettuato uno spostamento del motore E vogliamo che resti quello Durante tutta la modellazione Va bene? Allora zoom E come vedete adesso comunque Il motore è ancora con la faccia schiacciata sul profilo E non va bene Per questo io utilizzerò lo strumento cerchio E vado a creare un cerchio qua dentro Per questo io utilizzerò lo strumento P Sulla tastiera che sta per Project E vado a proiettare il contorno Vedete che mi si illumina? Proietto questo contorno E faccio OK Successivamente prendo lo strumento offset Selezionando O sulla tastiera E gli do un bordo di un millimetro Ora posso anche andare a deselezionare la visuale del motore Qua premendo sull'occhiolino E seleziono 1 e 2 Faccio E Che sta per estrudi Mi allontano Faccio Shift più click sulla rotellina del mouse Per spostarmi E vado a selezionare la faccia interna del profilo Come vedete l'operazione è già individuata Che a me serve che sia di taglio Faccio OK E come vedete mi ha creato un foro Un foro delle dimensioni della ghiera del motore Più un millimetro Ok posso andare a riabilitare il motore E come vedete adesso Il motore tranquillamente sta dentro il profilo E anche un po' di spazio per non essere proprio precisi Stessa cosa la faccio per dietro Quindi come vedete Seleziono questa faccia Faccio tasto destro Crea schizzo Mi avvicino Faccio la P di proietta E proietto queste linee esterne Che questa volta sono un po' di più Quindi le faccio una 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 Come vedete ragazzi Io le ho contate Perché secondo me è buona norma Che si contino Perché se mi fosse risultato che erano 7 Mi si starebbe storto il naso Quindi faccio OK Disattivo la visuale del motore Per ora che non mi interessa Faccio la O di offset E premo questi profili Che però in questo caso mi fa fare una 1 Quindi 1 Poi ripremo O Faccio questo e gli dico 1 Poi ripremo O Faccio questo e gli dico 1 E continuo così Quindi premo questo Cioè premo O Premo questo E OK Poi questo anche E OK Poi questo anche OK Premo O Seleziono questo e faccio Enter Sulla tastiera E anche questo Perfetto Bene Sapete una cosa? Io faccio una cosa più interessante Ovvero invece di stondare qua gli angi Semplicemente prendo qua il strumento linee E traccio una linea fino a qua A caso E premo ESC Poi faccio una linea di nuovo da qua Fino a qua Faccio la stessa cosa sotto Quindi da qua fino Oddio ho sbagliato Premo L di linee Da qua fino a qua E da qua fino a qua E poi prendo lo strumento rettangolo E faccio una bella rettangolo da qua A qua giù Ed è perfetto Adesso mi fa selezionare questo rettangolo Io premo E Mi sposto con Shift più clic sulla rotellina del mouse Fino alla faccia interna Mi individuo che l'operazione di taglio E faccio OK Come vedete mi ha tagliato anche questa parte Che è quello che volevo io Infatti se io adesso attivo il motore Come visuale Come vedete c'è un foro qua Con anche un bel gioco di un millimetro Se mi giro c'è lo spazio anche qua Con un altro bel gioco di un millimetro Quindi è ottimo per quanto mi riguarda Ora una cosa importante da fare adesso È praticamente creare dei supporti Che facciano sì che io possa Montare il motore da qua Mettendo dei fori qua Per fare questo io mi aiuto con lo strumento Che si chiama qua su verifica Analisi sezione Dove posso selezionare una faccia E trasportare praticamente La visuale E tagliare i corpi Solo che non me li taglia È solo una visualizzazione Che io posso disattivare ogni volta da qua Vedete analisi Fatto questo io insomma mi rendo conto Che è molto più semplice Lavorare così E una cosa che posso fare è per esempio Lavorare su questa faccia interna Se io riesco a selezionarla Faccio qua Faccio crea schizzo Mi sposta la visuale di qua Ma a me non mi interessa Perché io con shift più Clic sulla rotellina del mouse Mi sposto da quest'altra parte Clicco qua per andare sul piano E ora inizio a disegnare Tramite lo strumento P Proietta Questo oggetto Quindi vedete Premendo su proietta Io ho dei riferimenti Che posso cliccare sul serio Quindi prendo lo strumento rettangolo Mi sposto qua Sull'angolo Mi avvicino al bordo Prendo lo strumento linea Anzi Mi avvicino al bordo E faccio una linea di riferimento A 90 gradi Di qua Vedete non è precisa L'importante è che ci sia Poi faccio un'altra linea Da qua A su E faccio sempre Un'altra linea Da qua A qua E io dico che voglio creare Uno quadrato Da qua Vedete che mi dà lo snap Mi fa Me lo collega magneticamente Diciamo Anche se non funziona Effettivamente Perché devo creare Un'altra linea Da qua A qua Che intersichi questa Quindi adesso prendo Lo strumento quadrato Parto da qua Arrivo fino a Qua Come vedete adesso posso Selezionare anche le parti interne Quindi seleziono tutto questo Mi crea un altro piccolo quadrato Per la lunghezza che è 19 e 700 E l'altezza che voglio che sia 5 Quindi premo ok Poi una volta fatto questo Io faccio shift Più clic sulla rotellina del mouse Mi giro da quest'altro lato Se voglio posso anche andare su corpi E disattivare questo corpo E prendere Uno Due Tre Quattro Cinque E sei Fare E di estrudi E non so perché Me li ha fatti riselezionare Però non è un problema E estrudo questo piccolo pezzo Di qua Lo estrudo di qua Fino a dove finisce il corpo Quindi effettivamente Lo riattivo un attimo Vado qua sulla visuale E premo su questa faccia Ok Qua mi dice già che voglio tagliare Ma io in realtà non voglio tagliare Voglio creare un nuovo corpo Gli dico nuovo corpo Gli dico ok Come vedete mi ha creato questo corpo Che noi chiameremo Supporto motore Adesso io con il pulsante A Di appearance Vado a scegliere un materiale Tipo plastica ABS nero Lo vado a mettere qua Giusto per farvi vedere Anzi invece del nero Lo facciamo rosso Così capiamo meglio E abbiamo praticamente Se io disattivo questo corpo qua Questo piccolo oggettino Dove io posso andare a infilare Delle vitite qua Delle vitite qua E poi infilare il bullone di qua Per fare questo io praticamente Mi rimetto su questa faccia Faccio tasto destro Crea schizzo Mi sposto con il click sulla rotina del mouse Faccio P di proietta E proietto questi due fori Ok Proietto questi due fori Poi premo nello strumento cerchio Li ricostruisco così Va bene Quindi premo 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 E di estrudi E li vado a Estrudere fino alla fine E qua vedete C'è scritto Meno 14,70 E gli dico Più 2 Aggiungo 2 mm In cui rientra Così non mi fa il foro Dall'altra parte Perfetto Ora io vado a disattivare Il corpo qua Del servomotore Quindi mi rimane solo Questo pezzettino E vado su quest'altra faccia Faccio con testo destro Crea schizzo E dato che io so Che prima l'ho fatto Di 5 mm La parte alta Posso tranquillamente Premere qua su fronte E fare un altro quadrato Di 5 mm Così in modo tale Che mi ricordo E posso dire Qua Di creare un cerchio Lo creo a caso Lo creo di 3 mm Perché i miei bulloni Sono di 3 mm E gli dico qua Con lo strumento Quota dello schizzo Che da qua A qua Praticamente Devono di stare 1,5 Che è il raggio Più Altri 2 mm Di gioco Ok Stessa cosa Da qua A qua Gli dico Che devono Passare 1,5 Che è il raggio Più 1 E così Ho posizionato il cerchio Vedete Non lo posso più muovere Ora Premo sul cerchio Premo E Shift Più click Sulla ruota Nel mouse E mi giro Dall'altro lato E faccio Un altro foro Taglia Di 3 mm Come vedete È perfetto Perché io Posso riattivare il motore E come vedete Il motore Non si intacca In nessun modo Non viene toccato Da nessuna parte Se non qua sotto Cosa che possiamo risolvere In questo modo Ovvero Prendiamo questo angolo Con shift Più click Sulla ruota Nel mouse Premo G Che sarebbe La funzione smusso E lo smusso Finché voglio Finché vedo Insomma Che vedete Non appaiono poi I fori Quindi io direi Che 4 mm È più che sufficiente Per questo tipo di lavoro Ok Fatto questo Riattivo anche Il corpo 1 Che mi aiuta a vedere Come vedete Io adesso Posso tranquillamente Montare il motore Da quest'altro lato Non è un problema Solo che Vedete Non tocca Queste due facce Non toccano Quindi io che faccio Seleziono Da qua in fondo Questa faccia Premo E E Seleziono poi Quest'altra faccia Disattivo il corpo 1 Perché se no Si unisce E faccio ok Lo riattivo Faccio la stessa cosa Da quest'altro lato Seleziono questa faccia Premo E Di estrudi E gli dico Fino a qua Quindi premo e basta Disattivo di nuovo il corpo Se no si unisce E faccio ok Riattivo E guardate ragazzi Che bellezza C'è un foro qua Per la ghiera Un foro dietro Se io disattivo l'analisi Per far passare il motore Riattivo l'analisi C'è questo blocchetto di plastica Che mi aiuta A montare il motore Da quest'altro lato Ed è perfetto Per capire ancora meglio Se è perfetto Riapro la scheda di analisi In cui ci sono le analisi Della sezione Disattivo qua E la faccio da quest'altro lato Quindi premo analisi Sezione Premo questa faccia Mi trascino un po' più indietro E da qua Possiamo capire Meglio Perché vado un po' più indietro Qua con la freccetta Più o meno fino al centro E guardate in sezione Che bellezza Praticamente Ci abbiamo il nostro motore Che con la ghiera Esce E poi abbiamo questo supporto Che fa sì che io possa Mettere un bullone Qua dentro E mi possa andare a montare Al profilo di alluminio Questo era un tutorial Su come ho progettato Il mio braccio robotico Ma abbiamo visto solo Come montare un motore E sì ragazzi Perché se volete Le parti successive Io ve le faccio Non c'è problema Però più o meno Tutto il braccio robotico Funziona così Cioè Prendo i corpi Che io devo comprare E non posso costruire E man mano Taglio pezzi Da altre cose Aggiungo supporti Che possano farli montare Ad altre parti E così via Modello piano piano Quello che poi È uscito essere Questo qua Che come vedete Non è altro che Quello che abbiamo fatto Fino ad ora Vedete C'è lo stesso tipo Di supporto Lo stesso tipo Di taglio Sul motore Che qua È un po' più largo Per diciamo Farlo entrare meglio Per il resto Guardate qua Se io sposto questo Vedete È perfetto Tra l'altro Questi fori Com'è che li ho fatti Ho fatto la proiezione Di questi fori Qua dentro Su questa faccia Poi ho fatto Sottrai E così È come si modella Se non sapete Come modellare In Fusion 360 Ci sono Un sacco di tutorial C'è praticamente L'eserciziario Sul mio canale Quindi Grazie tante Per aver seguito Questo video Se volete La seconda parte La facciamo Perché è molto interessante Capire anche Come fare Questi altri Tipi Di Modelli Guardate Che sono Diciamo Di una complessità Un bel po' Più Più Elevata E io vi saluto E ci vediamo In un prossimo video Un bacio Ciao ciao